CINEMA Ciao a tutti d'Anteprima Cinema! Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Buongiorno papà! Faffanculo, c'è Luca! Amello, fammi una colazione dei campioni! Negroni per il Dottor Ruggero! Non ti ricordi che giorno è oggi? C'è il matrimonio! Pestiti dai cazzo! Che invece devo sposare io con quella busta di miscio dalla ragazza tua! Dai cazzo! Io non c'ho un figuolo, non è un figuolo, è un crocchio di cromosomi a forma del ricoglionito! Ma perché c'ho un figuolo così? Papà, hai chiesto a te di cambiare il succo di mela con 40 casse di whisky? Passa! Un attimo e sono subito da noi! A Chico, ascoltami bene e faccio una proposta che po 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 po, non la puoi rifiudare! Povagio siamo, cerca parcheggio! Gianluca come al solito non hai capito niente Tu oggi non ti sposi Io voglio andare in chiesa E negarti la possibilità De smutandare una come questa Che a questa una smutanderesti Io volevo la pillola del giorno dopo Cioè in realtà sarebbe per oggi Però casomai me la data adesso e poi la mangio domani Che dice? E' molto semplice E gli fai sentire la presenza L'amore non è che si può invegliare in un movimento fisico dettato dall'istinto Ma sei un po' come respirare no? Ma cibo devi? Io senza la calma Io soppo Io tossico Gianluca dai che ci abbiamo da fare Hai capito? Allora la capienza Che cazzo Che cazzo Ma che giornata po 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 Dè merda Dai cazzo Sono tre ore che aspettiamo l'ambulanza Mi sa che aspetti altre tre ore Ma poi che cazzo rompiti coglioni Manco sei morto Ma vaffanculo va Questi fanno pinta di essere morti E poi ti credo che si formano i godi. Ma che paese è questo? Dimmi Gianluca, che paese è? Jim Carrey e Steve Carrell non avranno forse condiviso l'ultimo episodio della stagione di The Office, ma sta diventando sempre più facile vederli lavorare insieme ad altri progetti. Saranno antagonisti in Bruce Almighty, ma non solo. I due commedianti presteranno la loro voce per l'animazione adattata da Horton Hears a Who di Dr. Seuss. Leonardo DiCaprio sta valutando per il ruolo da protagonista in The Imitation Game, dallo script di Graham Moore sul matematico inglese Alan Turing, appena comprato dalla Warner Bros. Ron Howard è interessato a girare il film, ripreso dalla definitiva biografia scritta da Andrew Hodges, Alan Turing, The Enigma. E per oggi è tutto. Arrivederci da AC News.